Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento del giovedì mattina alle ore 10.30 qui su iBroker, io sono Giuseppe Lauria e come di consueto anche questa mattina cercheremo di focalizzare l'attenzione su alcune o meglio sulle principali materie prime che già da diverse settimane stiamo analizzando, potete trovare e mi approfitto per comunicarlo alcuni approfondimenti, alcuni articoli che io solitamente scrivo settimanalmente sul blog di iBroker è un blog che è molto interessante dove potete dedicare la vostra attenzione su delle letture delle analisi e condite anche con degli aneddoti storici e alcune peculiarità che riguardano appunto le materie prime in questione, che dire potete anche chiaramente trovare gli stessi approfondimenti ad esempio sulla mia pagina Facebook Giuseppe Lauria potete trovarmi anche lì dove chiaramente vado a pubblicare tutto ciò che andiamo ad effettuale, ad analizzare con iBroker, che dire io inizierei a partire con il webinar, con le analisi attraverso il grafico come di consueto iniziamo con il grafico del petrolio, cosa sta accadendo? Vediamo che il grafico avv del petrolio è certamente legato a mio avviso alla produzione, la riduzione scusate della produzione e quindi dell'offerta e quindi la politica che è stata adottata da parte dell'OPEC Plus al netto chiaramente di tutte le diatribe che abbiamo menzionato in più occasioni, sembra che sia per raccogliere dei primi frutti, che dire gli ultimi dati sempre molto molto importanti, per esempio quelli dell'API, dell'American Petroleum Institute pubblicati nella giornata di martedì alle ore 16, segnano un livello di scorte di greggio di benzina e di distillati pari a circa 1,749 milioni di barili, quindi questo è un dato molto molto importante, dopo successivamente andremo ad analizzare anche i dati comunicati proprio ieri da Leia, che hanno segnato sotto certi aspetti anche questa candela rossa di ieri, questo crollo che ha andato a ritestare i 37 dollari al barile, 37,50 dollari al barile, anche questo oggi vediamo graficamente che il petrolio cerca di forzare nuovamente questo supporto che inizialmente era una sorta di resistenza, poi andiamo a verificare ciò che sta accadendo graficamente, per comprendere un po' la storica battuta d'arresto del petrolio che è subita in questi mesi con tutte le notizie che abbiamo dato, a partire non solo dai problemi relativi alla bassa domanda rispetto all'opportunità riguardanti ad esempio la famosa scadenza del contratto di maggio, altra notizia che a mio avviso è utile comunicare per capire sostanzialmente ciò che sta vivendo il loro nero e quella comunicata proprio da una delle principali, se non la più potente compagnia dell'Arabia Saudita e mi riferisco a Saudi Aramco, di fatto in notizia proprio di questi giorni sembra che anche Saudi Aramco si vede costretta a ridurre il personale di qualche centinaia di unità, anche questo è un aspetto che è importante menzionare e fa anche seguito a ciò che abbiamo già specificato nelle passate settimane, cioè la notizia da… in quanto le previsioni non sono ancora del tutto completamente favorevoli, cosa sta accadendo tuttavia secondo recenti dichiarazioni per esempio del ministro dell'Arabia Saudita, l'OPEC sostanzialmente sta lavorando bene ed è riuscita a contribuire, a stimolare sotto certi aspetti e lo vediamo graficamente il rialzo importante del prezzo del petrolio in queste settimane, quindi la politica adottata ha colto, sta accogliendo dei frutti importanti ed è una delle principali conseguenze positive, sia chiaro rispetto a quello che noi andiamo a visualizzare graficamente. Gli stessi membri più indisciplinati dell'OPEC Plus hanno mostrato tutta la voglia di collaborazione al fine di raggiungere la conformità degli accordi, ricordo Iraq per esempio e Nigeria che si sono sempre un po' mostrati distratti per certi aspetti. I numeri per esempio che abbiamo verificato proprio in questi giorni per esempio sulle scorte comunicate ad esempio dall'EIA, numeri dati aggiornati a ieri, il 17 giugno avevamo visto che avevano segnato ancora un aumento di 1,21 milioni di barili di stock di greggio, è così come il report del 10 giugno che ha registrato un brusco aumento delle scorte pari a 5,7 milioni di barili, insomma si capisce bene che ci vorrà ancora del tempo per smaltire queste scorte. È chiaro che il dato ultimo, quello aggiornato dall'EIA parla di 1,442 milioni di barili di scorte di greggio, il dato più aggiornato chiaramente. Altro fattore da prendere in considerazione è per esempio il famoso rapporto Baker-Hughes che lo abbiamo più volte sottolineato, rappresenta una delle più importanti, delle più significative aziende nel campo dei servizi petroliferi, è un rapporto che viene pubblicato solitamente ogni venerdì e che dal 1940 fornisce le statistiche sulle perforazioni e continua a segnare la costante riduzione del numero degli impianti di trivellazione, anche questo è un dato da prendere in considerazione da non sottovalutare. Attualmente il dato aggiornato al 19 giugno segna sostanzialmente una ulteriore riduzione da 199 trivelle a 189, siamo in attesa chiaramente di nuovi dati. Per concludere, prima di andare brevemente a focalizzare l'attenzione su quello che è il grafico e quello che sta accadendo, quindi sono tutte notizie che sto dando chiaramente in maniera anche abbastanza random, ma ce ne sono talmente tante che vanno ad influire sostanzialmente sulle oscillazioni. Un'altra notizia che da un certo punto di vista fa riflettere è che dalla Russia ad esempio fanno sapere che in realtà è un concetto che hanno già esternato già qualche settimana fa, proprio in riferimento all'ultimo incontro dell'OPEC Plus quando si è deciso di estendere i tagli di un altro mese, fanno sapere i russi che non è del tutto impellente la necessità di continuare ad estendere i tagli anche oltre il mese di luglio. Sono fiduciosi il fatto che ci sarà un costante miglioramento per quel che riguarda la domanda, quindi ci sono pareri un po' contrastanti. L'accordo è in essere, lo ricordo, prevede ulteriore Barche-6 milioni di barili al giorno, chiaramente nel mese di agosto fino alla fine dell'anno, poi sono previsti ulteriori, cioè una riluzione nella produzione di circa 5 milioni di barili fino alla metà del 2020, questa è la politica in generale che l'OPEC Plus, sono le direttive che l'OPEC Plus ha cercato, sta cercando di adottare, dal punto di vista grafico cosa sta accadendo? È chiaro che tutti si aspettano una completa ricopertura di questo famoso gap, quindi che questa resistenza che si è creata intorno ai 40-41 dollari al barile venga rotta per andare poi a colmare in maniera completa questo famoso gap del mese di marzo, l'abbiamo raccontato, è inutile che mi dilungo, durante la famosa apertura dei mercati asiatici quando si registrò un crollo, non solo da parte di alcune materie prime, quindi uno specifico del petrolio, ma anche del mercato azionario. Attualmente, lo dicevo, il dato di ieri ha influito sicuramente, ci troviamo in area 37 dollari, quest'area può rappresentare una prima importante resistenza che io ho individuato e chiaramente se sfondata al ribasso vado a visualizzare questa seconda resistenza che avevamo già individuato nelle precedenti occasioni, ha intorno ai 35 dollari, supporto che quindi un primo supporto, lo ribadisco, 37 dollari che se sfondato può andare a ritestare questo livello dei 35 dollari che all'inizio era fondamentalmente una prima importante resistenza da andare a superare. Questo per quanto riguarda il quadro del petrolio, passando, questo per esempio è il grafico dell'hitting oil che praticamente è un po' speculare rispetto a quello che sta accadendo sul petrolio. Passerei perché sono tante le domande che arrivano anche tramite appunto il mio Facebook, sono tante le domande che arrivano su un'altra materia prima che sta decisamente soffrendo già a partire in realtà dal mese di novembre dell'anno scorso, del 2019. Difatti lo storico supporto che fu, sto parlando chiaramente del natural gas, lo storico supporto del 2016 in area 1,689, dopo questo lungo crollo che si è innescato appunto a partire dal mese di novembre dello scorso anno, è stato riagganciato incredibilmente e pericolosamente, tant'è che è stato addirittura superato e quindi tutti i tentativi che ci sono stati, soprattutto in questa fase di rialzo, sono stati sempre, vediamo proprio dal grafico, sono stati sempre bloccati e attualmente si continua a veleggiare verso una sorta di latente e costante di cesa, lo vediamo qui dal grafico, attualmente ci troviamo ad 1,578 dollari per milioni di British Thermal Unit, ricordo che questa unità di misura equivale a circa 28,3 metri cubi di gas liquefatto. Anche sul natural gas è fondamentale andare a monitorare la situazione legata alla domanda e all'offerta, oltre alla stagionalità, i dati dell'EIA sono molto molto importanti, l'Energy Information Administration che segnano la variazione del numero dei piedi cubi che è scesa a 85 milioni, l'ultimo dato, ricordo che il piedi cubo equivale ha circa 28 litri. Quindi rottura di questo importante supporto al ribasso, supporto storico, la candela che si è formata in data 10 giugno faceva immaginare un cambio di tendenza, quindi una ripresa. Questo supporto ulteriore è stato decisamente rotto da queste tre candele giornaliere, è chiaro che il periodo di stagionalità, se ci si avvicina ad un periodo di stagionalità favorevole da parte, per quanto riguarda il natural gas, lo ricordo che l'aumento delle temperature generalmente fa sì, richiede sostanzialmente, soprattutto da parte delle famiglie americane, quindi non solo per quanto riguarda il comparto industriale, ma anche per quanto riguarda il discorso relativo ai condizionatori, ai climatizzatori, lo ricordo, abbiamo detto più volte, soprattutto in America si fa richiesta di questa materia prima proprio per alimentare questi elementi, quindi molta molta attenzione, la tendenza purtroppo sul natural gas è ancora attenzionale, è ancora in discesa, vediamo che questa oggi non fa esagerare nulla di buono, siamo tutti in attesa della ripresa della domanda in maniera netta e decisa, al fine di andare a superare questo primo livello di 1,742, questo potrebbe essere un primo livello importante, se dovesse rientrare in quest'area, da questo livello potremmo immaginare una ripresa del natural gas, quindi molta molta attenzione su questa materia prima che devo dire sta facendo molto molto senza dubbio sull'oro, l'oro io proprio il venerdì scorso ho scritto un approfondimento e invito a leggerlo perché è molto molto interessante, è simpatico se vogliamo perché l'ho intitolato, lo trovate chiaramente sulla pagina, sul blog di iBroker e sulla mia pagina Facebook, l'oro praticamente è come, l'ho intitolato come un leone chiuso in gabbia in attesa di trovare la sua libertà e il titolo appunto di questo mio ultimo articolo è proprio a voler sottolineare attraverso questa metafora ciò che sta accadendo, quindi in questa sorta di rettangolo di box che abbiamo evidenziato nei precedenti appuntamenti, già in realtà da diverse settimane a partire dai primi giorni di di aprire questo rettangolo, questo box, questa gabbia che è perimetrata tra il supporto dei 1670 dollari l'oncia e la resistenza importante, la prima resistenza importante è in area 1775 dollari l'oncia. Detto questo cosa sta accadendo? Il leone sta cercando di fuori uscire da questa gabbia, ci sono degli importanti segnali, ha rotto questa resistenza importante andando a soleticare, a riagganciarsi ai massimi del 2012 e precisamente le candele del 2012 sono quelle di settembre e ottobre che si sono spinte fino ai 1790 dollari l'oncia. L'attesa chiaramente da parte di molti operatori è quella di andare a ritestare un altro livello importante, quindi la maggior parte degli osberatori sperano che il prezzo venga ancora una volta calamitato verso l'alto e in prima battuta a 1800 dollari per poi immaginare di andare a riprendere i famosi 1900 dollari l'oncia che furono testati, prezzi storici testati nei mesi di agosto e di settembre del 2011. Secondo Goldman Sachs ed altre banche di investimento come JP Morgan vedono un loro vicino praticamente ad un target addirittura dei 2000 dollari l'oncia. Questo target secondo alcuni analisti ed alcune banche d'affari può essere raggiunto già. È un segnale, lo abbiamo avuto già ieri con questa candela in basso. Il discorso è questo, c'è il rischio di rientrare, data la situazione di incertezza in questo box, in questa gabbia, continuare una sorta di trading range a meno che non ci sia una spinta, una molla ben caricata verso l'alto che può far andare a toccare, testare, può far veleggiare il metallo giallo verso lì di chiaramente diversi, verso prezzi decisamente più alti. È palese chiaramente che lo stimolo, la massa di liquidità immessa da parte dei banche centrali per tentare di aiutare l'economia, ha contribuito a dare manforte al metallo giallo, l'impatto inflazionistico, la debolezza del dollaro, senza dimenticare chiaramente le tensioni internazionali che hanno praticamente messo in crisi lo stesso concetto di globalizzazione, una globalizzazione alcalina, questo è un altro mio vecchio titolo di un approfondimento fatto. Ed è interessante il libro Carrie Brown che alimenta molte, molte riflessioni, riflessioni proprio sul tutto il processo di innovazione che si è sviluppato in Cina negli ultimi tempi, a partire da Deng Xiaoping fino ad arrivare a Xi Jinping, con tutti i limiti e li vediamo, è cronaca di tutti i giorni. Dall'altro lato dell'oceano cosa sta accadendo? In America, è chiaro abbiamo visto importanti iniezioni di liquidità, in America storicamente caratterizzata da un neoliberismo sfrenato, si susseguono soprattutto negli ultimi tempi, ma non solo in America, iniezioni di liquidità enormi, che mi ricollegano da un certo punto di vista ad una bellissima metafora letta su un libro molto interessante che ho terminato di leggere proprio in questi giorni, è quello di Guido Maria Brera, che cosa dice? Lui sostiene fondamentalmente che stampare moneta è come una nevicata copiosa, fittissima. All'inizio hai l'impressione che il bianco sia ovunque, ma poi quando smette di nevicare capisci che non è così e che la neve si accumula sempre su alta neve è noti negli spazi vuoti privi di neve. Quindi questa metafora è molto interessante e ci deve far riflettere. Allora, ritornando sull'oro, i livelli quindi sono questi, è stata superata questa importante resistenza, c'è molta attenzione, è chiaro che la preoccupazione è quella di rientrare nuovamente all'interno di questo trading range che rischia di far veleggiare nuovamente il prezzo all'interno di questa importante resistenza e di questo importante supporto, quindi all'interno di questo box. Staremo a vedere, anche se i volumi di acquisto, anche per quanto riguarda il discorso di orofisico, ci sono numeri davvero interessanti che poi magari nel prossimo webinar andiamo a citare, a menzionare. Siamo velocemente sull'argento, si sta sostanzialmente perfettamente consolidando ciò che abbiamo specificato negli altri webinar, questa sorta di trading range innescatasi sull'argento che fa ricordare questo vecchio box, questo vecchio trading range che vede un supporto che avevamo individuato in area 16,90, 17 dollari ed una resistenza importante in area 18,90, in realtà una resistenza che è stata già solleticata da queste candele giornaliere, praticamente quella del primo, dell'1 e del 2 giugno. Cosa sta accadendo? È chiaro che per quanto io ho tracciato questa trading line importante, oltre a monitorare sostanzialmente questo trading range, è chiaro che l'argento ha dei movimenti, sotto certi aspetti segue in seconda battuta un po' l'oro. Sappiamo che l'argento ha sostanzialmente un comportamento a volte differente, ma allo stesso tempo è un metallo che viene utilizzato, lo abbiamo sempre specificato, soprattutto per il 50% pari a circa 511, si calcono circa 511 milioni di once che vengono richieste, quindi questo quantitativo di argento che viene utilizzato soprattutto per quanto riguarda scopi industriali. Il 20% per la gioielleria si calcono a circa 200 milioni di once e il resto è argento da investimento per circa 185 milioni di once, quindi praticamente questi elementi fanno capire la differenza rispetto al bene rifugio per eccellenza che è l'oro. Io sinceramente mi aspetterei, si sta formando, si è formato questo ulteriore importante supporto in area 17,50, questo supporto è fondamentale perché è stato ritestato più e più volte ed è chiaro che da questo supporto si possono alimentare, ed è importante anche questa trend line, se non viene rotta al ribasso, certamente a mio avviso si possono alimentare delle fasi di acquisto molto importanti e potremmo andare a verificare in un secondo momento, nel medio periodo, potremmo andare a verificare degli importanti allunghi sull'argento che può andare a rompere, a riagganciarsi alla resistenza dei 18,90 e questa stessa resistenza può essere a mio avviso rotta anche con una certa anche con una certa prepotenza. Per quanto riguarda quindi i livelli sono questi, monitorare questo supporto 17,50 e chiaramente porre attenzione a questo trading range e a questa resistenza in area 18,90. Per quanto riguarda un'altra materia prima fondamentale, abbiamo analizzato questo grafico anche giovedì scorso, è proprio appunto del rame, rame che chiaramente ha pagato lo scotto della situazione difficile degli ultimi mesi, sono emblematiche queste candele del mese di marzo che hanno fatto ripiombare il prezzo sullo storico supporto di 1,980 dollari, un livello che è stato testato nel 2016, già a partire dagli inizi di gennaio. Ancora difficile a mio avviso immaginare un tentativo in maniera decisa di ritestare dei livelli importanti e mi spingo sui livelli, sul traguardo, un traguardo storico di 3 dollari per libra, che è un livello che ormai da ben due anni non riscontriamo, non vediamo più sul grafico. Perché dico questo? Perché è vero che c'è stata la riapertura dopo il lockdown e questo è un metallo che viene molto richiesto dal settore industriale, ma allo stesso tempo il Cile, che è uno dei maggiori paesi produttori, in Cile molte fabbriche, alcune fabbriche si sono fermate e questo fattore ha sicuramente influito anche sulla crescita del prezzo del rame, perché c'è stata praticamente questo stop per una serie di motivazioni che spesso, oltre chiaramente al pericolo legato al lockdown, quindi alla pandemia, ci sono delle situazioni molto critiche in Cile che quasi ciclicamente si vengono riprese delle tensioni sociali che vanno a influire. Ricordo ad esempio che il Cile estrae circa 5 milioni di tonnellate all'anno e basti pensare che una delle miniere più importanti, l'ho detto anche già l'altra volta, la miniera escondida, è una miniera che si trova a 3 mila metri di altitudine e questa sola miniera forse. Il livello che sto monitorando è questo dei 2,5 dollari, questo è un livello importante perché rappresentava una sorta di resistenza che si è trasformata adesso in un supporto, anche qui incorriamo il rischio di andare a visualizzare la formazione di un trading range che vede questo supporto a 2,5 e questa prima resistenza importante, una resistenza importante che si è rotta può generare ulteriori acquisti intorno ai 2,68 dollari. Quindi è fondamentale andare a monitorare, andare a leggere notizie che riguardano non solo la riapertura del settore industriale, ma anche ciò che accade negli stessi paesi della Cordillera delle Ande, dove ci sono i più importanti produttori di lame e chiaramente anche e soprattutto ciò che accade in Cile. Secondo Bloomberg una delle ragioni appunto del recente aumento dei prezzi, quindi è una notizia importante che anche Bloomberg da, del recente aumento dei prezzi attribuibile proprio alle interruzioni delle miniere cilene e quindi è fondamentale attenzionare anche quello che sta accadendo in Cile. Almetto anche chiaramente delle richieste che fa ad esempio la Cina del rame perché influisce tantissimo sul rame perché è uno dei maggiori consumatori e si calcola che è più della metà mondiale di rame lavorato e estratto è richiesta appunto proprio dalla Cina. Quindi queste sono a livello generale le motivazioni dell'aumento del prezzo del rame. stessa situazione anche con aspetti diversi, vediamo un po' è simile al grafico dell'argento e quello che sta accadendo sul platino, stessa cosa vediamo quasi stessa situazione sul palladio, un'altra materia prima che abbiamo abbiamo raccontato, abbiamo monitorato da diverse settimane per una serie di curiosità, sul palladio per esempio di recente è giunta una notizia molto particolare, il triste incidente che è avvenuto proprio in questi giorni, non riguarda chiaramente direttamente il palladio, la materia prima in oggetto, è un incidente che ha colpito, riguarda una delle maggiori aziende produttrici di palladio che è la Norlisk Nickel che si trova a nord della Russia praticamente in Siberia dove c'è stato il 3 giugno, quindi all'inizio del mese di giugno un vero e proprio disastro ambientale, lo hanno raccontato anche molti giornali con la fuoriuscita di circa 20 mila tonnellate di carburante, carburante che si trova all'interno di un serbatoio di una centrale elettrica che ha contaminato un fiume importante e quindi le immagini di questo fiume colorato di rosso hanno fatto un po' il giro del mondo. Per quanto riguarda il palladio abbiamo verificato questo livello storico a 2800 dollari per oncia, le motivazioni sono legate, sappiamo bene, abbiamo già detto che il palladio viene utilizzato soprattutto per la produzione di marmitte catalittiche e quindi è un elemento che è utile per il ridimensionamento e oppure per il ridimensionamento fondamentalmente delle emissioni in atmosfera, quindi c'è molta richiesta di questa materia prima soprattutto nel settore legato alle automobili e soprattutto la Cina ha fatto storicamente grande richiesta di palladio. E' chiaro che sul palladio si è parlato giustamente anche di bolla speculativa perché c'è stato un aumento clamoroso e poderoso che abbiamo visto in diverse occasioni graficamente. Attualmente ci troviamo in una fase di grande indecisione, una sorta di trading range e qui possiamo individuare una sorta di supporto in area 1840-1842 dollari l'oncia, però chiaramente sul palladio bisogna porre molta molta attenzione perché particolarmente il liquido e chiaramente l'attenzione deve essere molto alta e non è una materia prima di facile da trattare con grande leggerezza. Quindi stessa situazione si sta verificando un po' sul palladio, quindi questa sorta di clima di attesa che vede anche il grafico del platino che sostanzialmente è anch'esso in una fase di attesa, un po' simile a quello che sta accadendo sul platino, quello che sta accadendo ad esempio sull'argento. Sotto certi aspetti sono materie prime chiaramente differenti. Facciamo una breve analisi anche su un'altra tipologia di commodity e per quanto riguarda determinate materie prime l'invito che faccio è quello sempre di dare un'occhiata ad esempio al Baltic Dry Index. Perché? Perché è un indice che rappresenta l'andamento dei costi di trasporto marittimo e quindi dei noli delle navi, poiché può essere considerato un buon indicatore, anche se non tutti gli analisti lo prendono in considerazione, però comunque può essere un termometro rispetto anche alla stessa condizione economica generale. E' bene sottolinearlo chiaramente, tale indice riguarda il trasporto di quei materiali non liquidi, quindi non c'entra nulla ad esempio con il petrolio, ma riguarda determinate materie prime, le derrate alimentari e quando scende questo indice la discesa mette in evidenza, così come è accaduto negli ultimi mesi, anche un po' il crollo della domanda, attualmente l'indice sembra in risalita, ecco questo è un invito che faccio, io spesso vado a vedere, a verificare anche questo Baltic Dry Index. Focalizzando attenzione su questa altra importante marea prima, sul grano, sul frumento, che dire, le stime sulla raccolta sembrano a livelli inferiori rispetto alle attese, questo per quanto riguarda l'Europa occidentale, queste sono delle notizie che ho analizzato e studiato di recente. Un discorso differente per la Russia e l'Ucraina, che sono altri importanti produttori di frumento, sono a volte, stime volte all'ottimismo con dei livelli importantissimi, si prevedono ad esempio quasi 60 milioni di tonnellate di export da parte di questi paesi, la produzione totale, per capire il livello di questa materia prima, la produzione mondiale è di circa 115 milioni di tonnellate, secondo stime recenti, e l'offerta mondiale di frumento ha subito molto per la scarsità di piogge che hanno condizionato il mercato. Graficamente la candela, giornaliera di metà giugno del 2017, ha rotto un supporto importante, questo è un supporto storico in area 492 centesimi per Baschel, fino ad arrivare ad una seconda rottura, di un secondo supporto importante testato nello scorso settembre in area 476, un livello decisamente importante da monitorare, poiché è un supporto che più volte è stato testato in questi ultimi giorni, e per quanto riguarda il livello che sto monitorando è proprio questo supporto, sembra che ci siano degli sviluppi, degli scenari di ripresa anche per quanto riguarda il frumento, dato il supporto è chiaro che una prima resistenza che io ho individuato è in area 490, 489, 490 centesimi, di dollari per Baschel, questo per quanto riguarda il grano, il frumento. La soia, che dire, sta accadendo un po' quello che avevamo monitorato negli ultimi giorni, la soia anch'essa risentita, e concludo con la soia, anch'essa risentita della crisi mondiale, la Cina, lo ricordiamo, secondo l'Organizzazione Mondiale del Commercio, consuma circa l'84% di prodotto importato, e altro aspetto fondamentale è quello legato alla situazione che sta vivendo ad esempio il Brasile, uno dei maggiori produttori di soia, quindi tutto ciò che riguarda il discorso della crisi, della foresta amazzonica, il disboscamento e quant'altro, quindi c'è una grande richiesta di soia, soprattutto da parte della Cina, e la Cina sta acquistando molta soia anche per fattori legati agli allevamenti intensivi. Con la soia si nutrono praticamente gran parte della catena legata all'industria dell'allevamento, perché si producono fondamentalmente dei mangimi. Da punto di vista grafico cosa sta accadendo? Si è trovata su un supporto importante in area 829 centesimi di dollaro per Baschel, supporto testato già a febbraio, marzo, un supporto storico, un febbraio, marzo del 2009, poi ripreso nuovamente nel 2015, nel 2016, è stato ripreso più volte questo supporto fino ad arrivare ai nostri giorni. Il Baschel, per capirci, e lo ripeto questo concetto, quando parlo di Baschel mi riferisco ad un'unità di misura ed è praticamente lo staio italiano, praticamente equivale a circa 27 kg di soia, che equivalgono sostanzialmente a circa 35 litri. Attualmente dopo questa lunga lateralità che abbiamo riscontrato, avevamo individuato un livello di resistenza importante in area 855 centesimi di dollaro. Questa resistenza è stata superata grazie a questa importante candela giornaliera del 4 giugno, che sotto certi aspetti fa ben sperare. Consideriamo che attualmente siamo in quest'area, quindi si può generare un… si può, come dire, questa resistenza si è trasformata sostanzialmente in supporto, si può trasformare sostanzialmente in supporto, come sta praticamente accadendo. È chiaro che la soia dovrebbe, a mio avviso, e lo ribadisco così come ho fatto mercoledì scorso, dovrebbe continuare a superare le nuove resistenze, anche per via della stagionalità. Difatti solitamente dovrebbe trovarsi dinanzi ad una stagionalità rialzista nei periodi che vanno da maggio a luglio. Inoltre non bisogna mai sottovalutare il fattore legato al rendimento annuale, che dipende chiaramente molto dai fattori climatici. Il caldo e chiaramente le temperature molto elevate non sono elementi favorevoli per la soia. Quindi il livello da monitorare è questo supporto, che in realtà nelle passate settimane era una resistenza, 858 centesimi di dollaro per Basch, è la prima resistenza, anzi più che prima, una seconda resistenza rispetto a questi 858, è in area 880, la possiamo individuare in area 880. Questa resistenza può alimentare, se superata, nuove fasi di acquisto. È chiaro che il suggerimento che io continuo, e non mi stancherò mai di dirlo, è quello di andare non solo a verificare i livelli tecnici dal punto di vista grafico, che sono il pane quotidiano di ogni operatore di borsa, sia chiaro, ma invito tutti a approfondire le notizie, che è chiaro che effettuare delle ricerche è difficile, perché sono materie prime molto complesse, molto particolari, però è importante riuscire anche a individuare materia prima, dove viene prodotta, da chi viene prodotta, dove viene esportata. Questo è importante perché i fattori interni di un paese possono assolutamente alimentare anche le oscillazioni che noi andiamo a verificare sui nostri grafici. Lo vediamo per quel che riguarda ad esempio sul petrolio, i vari scenari internazionali, lo vediamo per le varie diatribe storiche che partono dai paesi, dallo stretto di Hormuz ad esempio, quindi quel tratto di mare importante, che era un tratto di mare che già nell'epoca passata era famoso per gli scambi tra Oriente e Occidente, lo vediamo oggi tra Cina e Stati Uniti, quello che sta accadendo, e anche le materie agricole hanno subito molto per le diatribe tra Cina e Stati Uniti, quindi la famosa guerra dei Dazi innescata tra questi due paesi, quindi il mio invito è quello di andare costantemente a controllare, leggere, approfondire, analizzare anche delle notizie, non solo interne, ma anche legate alla geopolitica e ai rapporti internazionali. Io mi fermerei qui, questo è un ulteriore webinar importante che ha messo in luce, in evidenza, quello che sta accadendo, soprattutto sulle principali materie prime che sono petrolio e oro, seguite da molti, molti operatori, però è chiaro che è importante fare anche un'analisi su altre materie prime che invito anche a seguire perché possono regalare davvero delle grandi, grandi soddisfazioni. Basti pensare ai grafici e visualizzare i grafici, non solo del grano, lì ci sono delle importanti opportunità, ma anche il grafico del maestro, l'abbiamo visto mercoledì scorso, si trova su dei livelli molto, molto importanti e anche lì ci possono essere degli scenari davvero, davvero interessanti. Per oggi è tutto, io mi fermerei qui, ci ritroviamo mercoledì prossimo, sempre su iBroker alle 10.30, io vi saluto e invito ad approfondire, a leggere ciò che nelle varie settimane ho scritto attraverso i miei articoli che potete trovare sul blog di iBroker e sulla mia pagina Facebook. Un saluto da Giuseppe Lauria, alla prossima!